ciao amici si sa che il tè verde offre numerosi vantaggi per noi e la nostra salute già l'antica medicina cinese sapeva dei benefici del tè verde per la salute e usava il tè verde per curare tutto dal mal di testa allo stress questa bevanda viene estratta dalle foglie della camellia sinesis ma a differenza di altri tè le foglie destinate al tè verde subiscono meno lavorazioni questo lo rende un potente cibo medicina ricco di benefici per la salute eccoli se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 10 benefici del tè verde 1 contiene componenti bioattivi che migliorano la salute tra cui polifenoli antiossidanti e catechine amiche della pelle 2 migliora le funzioni cerebrali e sostiene l'attività mentale è stimolante grazie a l teanina che è tonica e alla caffeina in bassa dose 3 favorisce il consumo dei grassi e migliora l'attività fisica attiva il metabolismo grazie alla caffeina non è troppa ed è stimolante 4 riduce il rischio di malattie degenerative grazie agli antiossidanti il tè verde è considerato un anticancro 5 protegge in età avanzata da parkinson e alzheimer gli antiossidanti sostengono l'attività neurologica a lungo termine 6 è antibatterico e favorisce l'igiene della bocca le catechine combattono virus e batteri proteggono dalle infezioni 7 può ridurre il rischio di contrarre il diabete tipo 2 riduce i livelli di zucchero nel sangue e regola la produzione di insulina 8 protegge il cuore la circolazione aumenta la capacità antiossidante e contrasta il colesterolo cattivo 9 aiuta a dimagrire e riduce il grasso addominale alcune ricerche affermano che fa dimagrire soprattutto la pancia e il girovita e 10 il tè verde fa vivere più a lungo 5 tazze al giorno forniscono i nutrienti necessari a restare sani più a lungo per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano nutriti in modo sano e vivi meglio